Ciao a tutti, buona domenica, bentornati sul canale YouTube, scatta col Trend in Borsa, allora andiamo a fare oggi un veloce punto sui mercati, su alcuni indici, su qualche azione italiana e anche euro, dollaro e una materia prima molto interessante, anzi io partirei proprio dalla materia prima, in questo caso mi riferisco al cacao, per un motivo molto semplice, perché quando alcuni asset vanno a fare dei record di prezzo, degli uptrend incredibili, diventano protagonisti sui social e così via, salvo poi, salvo poi andare nel dimenticatoio, ecco, il trader che cerca di agire in maniera professionale attende proprio il momento nel quale questi asset vanno nel dimenticatoio, perché? perché il movimento rialzista è stato evidente e poi, e poi si torna in una fase di trading range, anzi vediamo dei massimi decrescenti e quindi si deve cercare proprio in questi momenti, in queste fasi poi di trovare un timing, un prezzo per rientrare, sicuramente area 6.900 diventa un'area interessantissima, perché per varie volte ha fatto da supporto, vediamo per 1, 2, 3, 4 volte nel 2024 è stata una chiara area supportiva, che ha tenuto in maniera perfetta dopo la discesa a piombo, possiamo dire, il prezzo che ha raggiunto 11.650 dollari per poi quasi dimezzarsi o comunque scendere di un buon 40%, ma ecco che su quest'area il mercato poi ha sempre comprato, adesso siamo in area 7.660 dollari circa, beh, proviamo ad attendere una nuova fase, una nuova fase di ritraccio e già in area 7.000 si potrebbe andare a ipotizzare un buy a quello, su quest'area supportiva davvero, davvero interessante e molto interessante la situazione anche con il forecaster, andiamo a vedere il code report, trovate poi come sempre in descrizione il link per abbonarvi con la scontistica, beh, quello che vediamo, ovviamente non andiamo sulla posizione dei commerzi, cioè di chi tratta il bene fisico, ma su quella degli speculatori, hedge fund, trader registrati, eccetera eccetera, bene, quello che vediamo è che nonostante la discesa, la posizione che è quella dettata, simboleggiata dagli istogrammi in viola, in rosa, continua a essere importante, ossia continuano a mantenere posizioni rialziste, anzi, nelle ultime settimane si sono ancora messi di più al rialzo. Quindi evidentemente si scommette che questo prezzo attuale intorno ad area 7000 sia un prezzo davvero davvero attenzionato e sul quale i big comprano. Quindi assolutamente ottica buy, poi chiaramente sarà noi cercare di cogliere un timing il più possibile corretto. Attualmente con il time frame daily possiamo dire di essere su un'area di resistenza, area 7900 e quindi proveremo ad aspettare una fase di ritraccio per poi cercare di entrare su questi livelli in area 7000. Andiamo anche a vedere la situazione, cambiamo totalmente, oggi facciamo un giro d'orizzonte su euro-dollaro, dove sembra che ci sia il rischio tra virgolette di proseguire in questo infinito trading range che dal 2023 a oggi detta i movimenti di prezzo. Siamo di nuovo in area, non in area, ma siamo di nuovo a puntare area 1.12.80, sono i massimi fatti a luglio del 2023 e chiaramente un'area di resistenza del genere potrebbe anche essere rotta perché il mezzo punto, i 50 punti base di taglio della Fed hanno dato l'iperli debolezza al dollaro, quindi se i mercati decidessero di puntare sull'euro in virtù di una Fed che ha un atteggiamento molto molto colomba, beh si potrebbe rafforzare. Però è anche vero che la stessa BCE, magari forse con più lentezza, ma ha iniziato a tagliare. Quindi secondo me questa resistenza potrebbe tenere, ma credo che a priori per il medio periodo area 1.14.60 sarà la vera resistenza che potrà tenere. Quindi nel brevissimo non vedo livelli interessantissimi di operatività se non il sell a 1.14.60 oppure in ottica buy andiamo a tracciare questa simpatica trendline che poi è un taglio, taglio perché in alcuni casi fa da supporto, in altri fa da resistenza, eccolo andiamo a tracciare il più possibile precisa e quindi resistenza, 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 rottura, retest come supporto e quindi adesso è un'area di chiarissima resistenza. Vediamo come entrambe le aree di eccesso, le due aree operative, sono entrambe lontane, ma d'altronde non siamo obbligati per forza a tradare un certo asset, quello che è importante è trovare le aree più estreme dove effettivamente poi qualcosa può accadere. Quindi a mio parere in ottica buy attenderei 1.08.50 e in ottica sell 1.14.50. Per il momento vediamo c'è veramente una incertezza importante perché nel brevissimo abbiamo 1.10 che è un supporto molto molto forte. Su questo non credo che si discuta sia soglia psicologica che appunto rottura di questo massimo che ha creato la resistenza pullback e ripartenza. Ma allo stesso tempo adesso a parte questo doppio minimo di brevissimo, comunque è un doppio minimo che sta a 1.12, quindi bisogna tenerne conto abbiamo poi quest'area di resistenza a 1.12.80, 1.12.75. Ecco che quindi andarsi a cercare il buy con due resistenze così vicino non mi fa impazzire. Solamente magari un rientra 1.10 potrebbe essere un tentativo buy per un trade veloce con target appunto a 1.12. Ovviamente ribadisco secondo me i livelli migliori in ottica anche di ingresso di medio periodo, per il buy sono a 1.08.70, 1.08.60, oppure il sell a 1.14.50. Andiamo a dare un occhio al nostro carissimo Fuzzimib che mostra sempre sicuramente una grande forza relativa ma che nelle ultime giornate ha fatto dopo la discesa di tutti gli indici inizio settembre ha fatto un movimento rialzista ma non ha avuto la forza almeno per ora di andare a prendere la resistenza dinamica di medio periodo quindi ecco secondo me area 34.300 punti sarebbe stato un'area interessante in ottica sell per andare appunto a fare la gamba ribassista però già venerdì ha disegnato una candela abbastanza incerta. Credo che si potrebbe avere la chiusura anche di questo gap prossimamente e quindi 32.300 punti diventano un livello interessantissimo in ottica buy. Quindi anche qui se dovessi operare in ottica solo di analisi tecnica direi bene mi vado a cercare la resistenza per cercare un sell veloce ma in generale abbiamo un movimento di fondo solidamente rialzista senza alcun dubbio e quindi a questo punto preferirei cercare di attendere il ritraccio per entrare. Teniamo anche presente di avere questa trend line rialzista che in maniera abbastanza precisa ha dettato i tempi con questi minimi importanti questo minimo qui aveva tenuto discesa e poi si è andato a fare il pullback in maniera precisa questa è una doppia resistenza davvero degna di nota quindi i 34.400 punti oltre ai 34.200 punti sono due aree di resistenza molto forte quindi proverei il buy solamente su una riaccumulazione per andare a chiudere il gap ai 32.300 punti quindi siamo sotto due resistenze per cui massima massima prudenza. Un occhio lo andiamo a dare a Eni che è un titolo che chiaramente va sempre seguito beh anche qui io aspettavo purtroppo non l'ha fatto il livello dei 13 euro e 50 ma chiaramente c'è tempo per farlo. Non è assolutamente impossibile vedere Eni a 13 e 50 adesso siamo a 14 e 28. Perché dico questo? Perché abbiamo avuto il test dei 14 e 50 che è una resistenza molto forte perché corrisponde alla metà del corpo di questa candela abbiamo detto tante volte una candela con una estensione così ampia metà del range della candela è un'area di swing in automatico oltre a essere una cifra tonda perché siamo a 14 e 50 è stata perfettamente sentita una candela negativa venerdì anche se di suo come conformazione è una sorta di spinning top quindi una candela di incertezza poi spinning top fa abbastanza abbastanza ridere vuol dire cima che gira ossia ricorda un po' la trottola di una volta che si premeva verso il basso e girava su stessa sul pavimento cosa significa che faceva un grande rumore e qui il grande rumore sono le spike quindi compratori e venditori che se le danno di santa ragione ma poi la trottola alla fine rimaneva lì per cui tanta battaglia ma poco cambiamento di prezzo vedremo se dovesse avere debolezza e tornare ai 13 e 60 avendo poi un supporto fortissimo ai 13 e 50 ecco quest'area secondo me sarebbe interessante in ottica by andiamo a vedere un titolo che ha pagato pegno venerdì con un meno 4 e 23 per cento è un titolo che ha una situazione grafica molto pulita questo era un triangolo ribassista è stato rotto al ribasso e la sua estensione ha portato millimetricamente su questo livello che era resistenza sia l'area dal massimo al primo minimo del triangolo è stata poi rifatta sull'uscita al ribasso questo sempre per menzionare i quattro babbei che tenigrano l'analisi tecnica pensassero a loro alle loro sorelline a guardarsene più da vicino invece che parlare male dell'analisi tecnica detto questo c'è stato poi un pullback adesso un massimo più basso del precedente pessima candela ribassista ora non possiamo dire che si tornerà qua perché il test già è stato fatto ma è un titolo sicuramente volatile qui è 25 euro quindi soglia psicologica zona precisa e se ci si torna andremo a valutare un buy senza alcun dubbio e chiudiamo con un titolo che seguiamo da un po di tempo che ha dei numeri importanti siamo su pirelli per il quale aspettiamo sempre area 5 euro area di swing chiarissime sono dette tutte le frecce rosse che simboleggiano le volte in cui era stata resistenza rottura rialzo consolidamento e retest come supporto e se ci torniamo sicuramente diventa una bella area in ottica buy anche qui pensavo che ci fosse stata la ripartenza di avere ormai perso l'opportunità ma venerdì fa una ma rubo su close ossia chiude sui minimi abbiamo solamente in apertura una minima spike sotto non abbiamo nulla non ci sono state ricoperture potrebbe essere considerata alla fine una maro box quindi una candela fortemente ribassista per pirelli e quindi se dovessimo tornare in area 5 non possiamo escluderlo l'obiettivo per lo meno quello che faccio io è guardare il più possibile un alto numero di asset e poi dire metto degli alert su tutti qualcuno ci arriva e però quando ci arriva sono dei livelli importanti quindi 5 euro per pirelli l'indiamo assolutamente ad attenzionare un titolo lo amo visto un po di tempo fa poi nel prossimo video che faremo esamineremo alcuni titoli che avete richiesto nei commenti un titolo con una costanza e solidità di fatturato e di utili un ottimo shareholder seal quindi un ottima creazione di valore per gli azionisti al delà del dividendo un pie non alto quindi non è assolutamente sopravvalutato un profit margin non eccezionale ma ripeto una costanza assoluta un debito molto basso metà del patrimonio il titolo appunto in base al fair value dettato dalla media di questi due parametri peter lynch quindi la formula peter lynch il valore economico aggiunto è un titolo che sembra assolutamente sottovalutato a un altman z score non simpatico ma molto spesso dipende da tanti fattori non lo possiamo considerare un titolo onestamente a rischio 7 su 9 di pietros che è considerato un titolo forte e ha un buon livello di bene score quindi tranquillità per quello che sono i bilanci quindi un watch list va pirelli ancora buona domenica un saluto a tutti vi aspetto sul canale youtube iscrivetevi buon trading a domani